Cuori Nerazzurri un buon pomeriggio, un buon sabato pomeriggio per cantarla un po' così dal Mappei Stadium di Reggio Emilia pronti ad accogliere l'ingresso in campo di Sassuolo e Inter per la nona giornata di campionato e adesso tutti si vanno a schierare a centrocampo, guardate i loghi di Sassuolo e Inter cambieranno perché adesso c'è il tributo che il calcio italiano in occasione di tutta questa giornata di campionato vuole dedicare a Diego Armando Maradona Corsa di Perisic che scappa lungo l'out di sinistra, va l'uno contro uno, guadagna il fondo, parte il cross calibrato secondo palo a cercare Darmian che prova a rimetterla in mezzo, allontana, poi Barella, palla con il tiro di Lautaro gli rimane strozzata, intanto c'è un buon pallone recuperato da Sánchez, Lautaro, attenzione, palla buona, porta vuota deve riuscire a metterla, Sánchez, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è il nino, Inter in vantaggio l'errore di Chiriches, di cui approfitta poi Lautaro che va all'uno contro uno con ancora Chiriches e poi l'assist perfetto per il pallone dentro ancora palla per Locatelli che cerca il filtrante, Bastoni capisce e prova a far scappare Lautaro attenzione che può, attenzione che va, attenzione, pallonetto, incredibile ha cercato il colpo di grande classe Lautaro per Barella, Barella può largare per Vidal, eccolo qua, Artù che riceve, pronto ad andare dentro il cross, lo chiamano, palla dentro con il colpo di testa di Chiriches che anticipa consigli c'è De Vrij, c'è Perisic, palla dentro, Vidal, carica al destro, tiro, un rimpallo, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, 2-0 il gol di Sponda Intercetta ancora Skriniar, il colpo di testa di Locatelli, Diuricic, pericolo, attenzione, carica il sinistro, il palo, salva Samir Locatelli per Rogerio, attenzione, Rogerio cerca di andare al tiro cross, tenta il tiro, Samir un po' saponetta ma in due tempi fa suo il pallone, finisce il primo tempo con l'Inter che va a riposo con un meritato doppio vantaggio Gagliardini, Sanchez, aggancia questo pallone, vediamo, apertura buona per Darmian che può guadagnare il fondo il cross sul secondo palo, a cercare Vidal, il colpo di testa a servire Sanchez Bastoni, parte in dribbling, cambia tutto, bellissima questa apertura per Darmian che può scappare dentro c'è Lautaro, a centro aria, e alta, bella l'azione veloce, l'apertura di Bastoni Gagliardini, palla per Barella che vince un rimpallo, poi Sanchez gestisce il pallone e lo gioca orizzontale per Vidal che allarga sulla destra occhi chiusi, trovando da quella parte Matteo Darmian che prova ad andare dentro palla per Gagliardini, il tiro è gol, 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 il Leone e sono tre Controlla e con il collo destro mette alle spalle di consigli Bellissima questa azione Molto bene, quando siamo al quarto d'ora della ripresa Gagliardini mette il sigillo dello 0-3 Forza ragazzi Lautaro, attenzione, la piazza dentro Il tiro, che bella azione Il colpo in volé di Sanchez Basta così, finisce con una bella vittoria per 3-0 Con i gol di Sanchez, di Gagliardini L'autogol di Chiriches Hey, non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Ehi amico, non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube